L'ultima in ordine di tempo è stata inaugurata a Canosa di Puglia. Ce ne sono un po' ovunque, distributori automatici di acqua frizzante e naturale a chilometro zero. Chiamatela pure acqua alla spina, dicono gli inventori, che parlano di un nuovo servizio ai cittadini. Si tratta di un punto di distribuzione self-service che permetterà a chiunque di rifornirsi di acqua fresca, controllata e certificata a basso prezzo, nelle varianti liscia o gassata. Il costo è di 5 centesimi al litro, serve una scheda magnetica ricaricabile. Eccole, costo 10 euro prepagate. Un passo importante verso la riduzione dei rifiuti plastici, spiegano a Canosa, per chi proprio non può rinunciare al piacere dell'acqua imbottigliata sulla propria tavola. L'acqua alla spina, inoltre, elimina la produzione e il trasporto su camion di milioni di bottiglie di plastica, riducendo così le emissioni nocive di anidride carboniche in atmosfera. Non è questo l'unico punto all'interno di una struttura comunale. Saranno disponibili, infatti, altre due postazioni della Casa dell'Acqua a Canosa, una in piazza Galluppi e l'altra in piazza Padre Maria Losito. L'acqua alla spina, lo ricordiamo, è attiva già in diverse cittadine italiane nei punti vendita della grande distribuzione organizzata, che da tempo offrono lo stesso tipo di servizio anche per prodotti diversi, come ad esempio i detersivi ecologici.